Musica Sono Antonio Abruzzese, Presidente dell'Associazione Culturale Fiore di Lino. A nome mio personale e di tutti i soci, ringrazio il Presidente dell'Associazione Le Muse di Reggio Calabria, Peppe Livoti, per aver voluto esporre qua a Soveria, proprio in questa giornata, le opere degli artisti legate alla sua associazione, provenienti da tutta la Regione Calabria. Questa mostra sarà aperta fino al 16, nella Casa delle Idee, intitolata Gerardo Marotta. Ci associamo all'invito fatto quest'oggi dall'amministrazione ad organizzare quest'estate una manifestazione con questa associazione Regina, nella kermesse estiva di essere a Soveria, una delle manifestazioni culturali più importanti di tutto il meridione. Grazie 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 Grazie